Bene, di una salve. Oggi è un giorno speciale. Perché sarebbe così tanto speciale? Ehi, in effetti, spiegaci il perché. Perché oggi siete stati diplomati. Ma, e chi ci darà il diploma? Arrivano subito. Eccoci padrone. Bene, consegnatelo salve i vostri attestati. Subito padrone. Ecco, un per il nome di Sauron. Uno per il veloci Marco. Uno per Oryx. E questi sono per il vostro storio. Ho fatto un aero. E' un po' di 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 un po'. Che volete? Oh, che belli. Dai, faccio una bella forma. Ecco, così. Faccio un bel sorriso. Bene. Ora siete ufficialmente veri dinosauri. Auguri. Yeah, siamo veri dinosauri. Bene. Adesso i gormiti possono andarsene subito. Oio. 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 Una cosa. Giusto. Giusto. Sporzano. Bene ragazzi. E adesso vi devo dire solo una cosa. Quale? Attivo. Avete già passato tutte le prove. Perciò. Adesso. Adesso cosa dobbiamo fare? Beh. Ovviamente. Ci stanno ancora per ora. Perciò che sta a sorbogliare il parco. Perciò dovremmo, come dire, andare a prenderlo. No? Mmm. Giusto. Però partiamoci di ploma. Ecco. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. E questo è il mio. Chissà quando arriva. Eccoci. Eccoci. Pterolatilo. Siamo stati diplomati. E infatti. Adesso questa torre ci sta portando il diploma. Che bello. Che bello. Possiamo scappare. Oh io. Ragazzi. Però fate che fiamo. Ecco qua. Perfetto. Direi che possiamo scappare. Oh no. Master Van Owen. Presto presto. Tutti dentro. Io mi nascondo. Ci vediamo dopo. Ah. Presto. Non me lo chissà più adottare. Di diploma. Basta torre. Nascondi diploma. Subito. Una delle furcane. Una delle furcane. Così. Pogno un altro qua. Un altro qua. E un altro qua. Ne. Entriamo. Aiuto. Ha fatto Mauro. Entra. Sta scivolando. Ah. Sono entrato. Ah. Ah. Non c'entra. Aiutate. Oh. Sì. È proprio giusto. Ciò di un salvo. Ciao Owen. Io pensavo che fosse scappato. Cos'è quello stato lì? Eh. No. No. Non è niente. È soltanto un pezzo di foglia che dovevo mangiare. Ok. Comunque. Io ho pensato di poter dormire qua con voi. Eh. No. No. Owen. No. No. Non c'è bisogno. Sì. Sì. Owen. Se vuoi pur dormire con noi. Oh. La vuoi finire? Ok. Mmm. Va bene. Dormirò con voi. E. Domani. Faremo delle bellissime cose. Buonanotte. Sì. Dormirò con voi. Sì. Ciao. come me dai il suo che è scappato non mi non mi ha mai eeeh però mi sa che HA! AAAAAA IUDO